Questo video riguarda i migliori 3 tornio da banco. Il vincitore della qualità è l'S10Y B Mini Tornio. Il mini tornio metallico è realizzato con ferro di alta qualità con un potente motore di tornio, 1100W. La costruzione di ferro di alta qualità lo rende più robusto durante la svolta, la perforazione, il trading e il taglio dell'elaborazione. Posizionamento della guida a forma di quinto per determinare il parallelismo tra il main axis e la superficie della guida del letto non è facile da cambiare. La testa del mandrino è realizzata in ingranaggi induriti ad alta resistenza per la durata a 12 velocità di cambio, alta velocità o coppia elevata. Motore a sincrono ad alta potenza, potente, nessuna manutenzione. Macchine utensili per la casa industriale. Alta precisione, buona rigidità e grande coppia. L'operazione e la manutenzione sono estremamente semplici. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Yaobao Tornio per metallo. Il mini tornio in metallo è azionato da motore CC con potenza, 1,1 kW. Velocità variabile 50 trattino 3000 più o meno 10%. Tappering spindle nose, MT5. Conicità nel mandrino della contropunta, MT2. Ruotare la leva in senso orario per bloccare il mandrino e ruotare in senso orario per far avanzare il volantino. Il riposo stabile funziona come supporto finale garantendo un funzionamento senza vibrazioni. Seguiresto viene utilizzato per le operazioni di svolta su pezzi di lavoro lunghi e sottili. Il porta utensile a cambio rapido del mini tornio può ottenere posizioni di taglio interno. Il vincitore del premio è il Fervi Tornio. Nuovo tornio parallelo 200X 520 mm marca. Fervi codice 0708 nuovo modello 2012. Cambio velocità e ingranaggi cuscinetti iconici elbero mandrino noni registrabili vite madre protetta protezione mandrino con microinterruttore lunetta mobile comparatore per filettare avanzamento automatico longitudinale altezza punte. 110 mm distanza punte. 520 mm diametro max. Sul banco. 200 mm diametro max. Sul carro. 122 mm diametro autocentrante 3 più 3, incluso 125 mm cono albero. CM3 passaggio barra. 18 mm attacco contropunta. CM2 filettatura metrica e a pollici. 0,25 barra 3 mm. 8 barra 48 più velocità. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.